Mercoledì 27 marzo, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. In primo piano il tragico incidente che si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 14.30 a Calcinelli di Colli al Metauro, dove una donna di 74 anni è stata travolta e uccisa da un'auto in fase di sorpasso. L'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento, ma in base ad una prima ricostruzione dell'accaduto, una Peugeot 208 che viaggiava in direzione mare, giunta all'altezza dell'incrocio per la zona Laghi, ha azzardato un sorpasso, urtando una vettura nello stesso senso di marcia e invadendo la corsia opposta, dove transitava la donna a bordo di uno scooter. L'impatto è stato fatale e la pensionata è deceduta sul colpo. Invece il conducente della vettura, finita contro un albero a lato della strada, ha riportato ferite e traumi. L'uomo, un trentenne di origine ucraine, residente a Lucrezia, è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale, i carabinieri per i rilievi di legge e il sindaco Pietro Briganti.